Il primo incontro di Tommaso a Giuda Forchetti in San Paolo Torrile, primo dicembre 2012. Per un errore tecnico non sono riuscito a registrare l'inizio, l'inizio è avvenuto due secondi prima di questa ripresa. Tommaso a Giuda è facilmente il primo incontro, l'avversario piange e non conosce Tommaso. Se non ringrazierebbe il cielo di essere ancora viva.